Ciao a tutti cari hyper followers, sono Eugene Pitch e oggi vi leggerò un estratto dal prologo del mio hyperbook Conception, la genesi della perfezione. La perfezione è qualcosa di inafferrabile che vive solo nella nostra mente. Ogni volta che guardiamo un'altra persona andiamo alla ricerca della perfezione che ci manca, ma troviamo solo l'imperfezione che ci accomuna e allora non ci rimane che crearla con le nostre mani. Resta solo da stabilire quali ne saranno le conseguenze. Abu Dhabi, 37 gradi. Sara non aveva mai visto una platea del genere. I fare del palco le illuminavano il viso senza pietà. Centinaia e centinaia di persone si accalcavano sulle loro poltroncine rosse, sporgendosi in avanti per osservarla meglio. Il loro vociare sommesso si era ben presto tramutato in un brusio di sottofondo permanente e quasi assordante. Era la prima volta che a Sara capitava di essere al centro dell'attenzione non per ciò che era, ma per quello che faceva. Sul palco il presentatore dell'evento la guardava affascinato e con un sorriso a 32 denti stampato in faccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.